Martim Pescatori diretta da Franca Ferreri ma anche le associazioni sindacali, qui è presente l'associazione mare adriatico della CISL, Salvatolino Puglia, la Proloco e le associazioni, i centri anziani. Dicevo questa è una giornata memorabile perché questo obiettivo è stato inseguito con grande tenacia, con grinta e consapevoli della sua importanza perché si inserisce in questo spazio, lo va a migliorare ed assolve a un triplice obiettivo. Migliora la vita dei pescatori, la pesca è l'attività fondante di Martim Sicuro, anche se oggi viene praticata in numero sempre più esiguo, però proprio per questo il lavoro che ha la base della pesca rende onore a chi lo pratica e merita tutta l'attenzione da parte delle istituzioni. Completa idealmente questo luogo e mette in sicurezza e rende conforme alla normativa igienica e sanitaria il lavoro della vendita del pescato. Oggi noi inauguriamo appunto questa struttura che consta di 10 celle autorefrigerate e di una macchina per il ghiaccio che produrrà anche l'effetto di agevolare il cosiddetto chilometro zero, direttamente dalla mare al produttore, alla commercializzazione, il passo quindi è brevissimo, c'è questo accorciamento di distanza che è sicuramente un valore aggiunto.